Inizierà venerdì e proseguirà fino a domenica a Falconara di Lerici l'ottava edizione della festa al golfo sotto le 5 stelle. Siamo giunti all'ottava edizione di questa festa nata come una piccola festa tra amici, un'edizione particolarmente importante perché è la prima da quando siamo al governo di questo paese, quindi avremo ospiti molti sottosegretari, presidenti di commissione, quindi tutto il discorso che verrà fatto sulle nostre idee, su quello che intendiamo portare avanti per il bene dei cittadini poi saranno realizzati, diventeranno fatti concreti. Apriremo la festa venerdì alle 17 con un benvenuto da parte mia e di Jessica, che siamo le due consigliere qui del Comune di La Spezia, insieme ai consiglieri eletti nella provincia. Avremo molti eventi, esperienze che vengono dalle regioni, che si incontreranno, sindaci eletti che si incontreranno, proprio anche per scambi di idee su quello che stanno facendo sul territorio. Sarà anche una festa chiaramente dove si mangerà, si apporteranno a apprezzare i prodotti locali che noi usiamo, è una festa ecologica e insomma aspettiamo tutti perché sarà veramente un evento. Tanti gli eventi in programma, chi saranno gli ospiti? Ci saranno i nostri ospiti europarlamentari, ci saranno degli eventi importantissimi, ho qua la lista proprio perché saranno talmente tanti e ricchi che è difficile ricordarseli a memoria. Fra tutti possiamo citare un evento che si terrà venerdì con Gianluigi Paragone. Ci sarà Piera Iello che è una collaboratrice di giustizia che dopo 25 anni è riuscita a riscoprire il suo volto, a riprendere la sua vita in mano e è appunto diventata portavoce del Movimento 5 Stelle, così come il senatore Elio Lannuti che è già presidente di Adusbef Italia. Ci sarà Laura Castelli, sottosegretaria all'economia, ci sarà Lorenzo Fioramonti, sottosegretario all'istruzione e poi ci sarà un evento veramente clou che si svolgerà domenica verso le 18 dal titolo Ilaria Alpi, morte di una giornalista. Questo evento verrà trattato da Sondra Coggio, da Franco Fracassi che è un giornalista d'inchiesta, uno dei pochi ormai rimasto giornalisti d'inchiesta Italia e ci sarà Chiara Cazzaniga che avremo l'onore di avere con noi, giornalista di Chi l'ha visto.